L'ondata di caldo anomalo di aprile ha lasciato alle spalle un weekend di spiagge pesaresi prese d'assalto in anticipo sui tempi. Ora arriverà un calo fisiologico di temperature, ma le attesi per un'estate calda e precoce porta già gli stabilimenti balneari ad anticipare la disposizione di ombrelloni e lettini, ma soprattutto di servizi bar e ristorazione. Gli stagionali vanno molto bene, abbiamo diverse richieste anche per ombrelloni nuovi, soprattutto nelle prime file, invece dietro, più verso il bar dove sono tutte le compagnie, siamo già pieni. Domenica si è lavorato parecchio, abbiamo il ristorante praticamente tutto pieno, visto il caldo eccezionale per il periodo, siamo molto contenti, siamo stati molto contenti. Quest'anno abbiamo deciso di rifarci il look, quindi partiremo tempo permettendo questo weekend, sennò saremo operativi per il 25, tutto il ponte dal 25 al primo maggio, con la cucina aperta, il bar aperto. Abbiamo organizzato anche dei pomeriggi danzanti con musica, aperitivi e tutto quello che concerne il ponte dal 25 al primo maggio. Adesso andranno giù le temperature questa metà settimana, tra domani e domani l'altro e ci prepareremo per la solita apertura, noi come tutti gli anni, il 25 aprile. O che sia bello o brutto, noi comunque sia per il 25 siamo già quasi operativi col bar ristorante, qualche lettino in spiaggia e attendendo le belle giornate, un mare abbastanza acquieto per poter spianare le ultime dune di sabbia rimaste, per iniziare con le misure dai per gli ombrelloni e inizio stagione. Pensiamo di cominciare ad allestire con i pali degli ombrelloni verso il 25 a fine aprile, 10 maggio sicuramente avremo già gli ombrelloni, sicuramente la spiaggia sarà praticamente a posto per la metà di maggio, 20 maggio al massimo. Alte temperature di aprile che fanno da preludio ad un'estate che potrebbe essere molto calda e molto lunga. Le stagioni sono cambiate, lo sappiamo tutti, bisogna essere fortunati e sperare che non fa questi caldi eccessivi per poi ritrovarci venti forti che in una mezz'ora guastano tutto. Speriamo che fa una stagione bella come le ultime passate. Probabilmente quest'anno sarà una stagione soprattutto calda perché se aprile così probabilmente sarà una bella stagione. Speriamo che si prodicherà anche per settembre, ottobre, che comunque sono due mesi ormai estivi quindi è bello anche, è buono, bello soprattutto che si possa venire al mare così da poter allungare la stagione. E c'è pure curiosità per capire anche se l'effetto capitale della cultura si avvertirà anche nell'affluenza in spiaggia. Lo vedo anche dal movimento che c'è in centro città, c'è movimento molto più dell'anno scorso, sicuramente ci sarà tanta più gente nei prossimi mesi e speriamo di lavorare ancora di più insomma. Anche se qui sotto monte non ci sono alberghi alle spalle che quindi magari possono attirare un po' di clientele però a Pesero c'è tanta gente, c'è una ciclabile fantastica che richiama tantissima gente quindi sono ottimista. Spiagge che in primavera sono anche alle prese con il reperimento non sempre facile del personale. Io mi considero fortunato perché gran parte della squadra di quest'anno, la stessa dell'anno scorso, quindi è un personale collaudato di fiducia e va bene così. Però c'è sempre insomma il rischio di cambiamenti dell'ultimo minuto, non è facile trovare personale qualificato, non è facile trovare persone, specialmente ragazzi che hanno voglia di lavorare, questa è un po' una problematica non solo mia ma di tutti quanti. La difficoltà è nel trovare persone che hanno esperienza, ecco sì, questo sì, purtroppo di questo ne siamo carenti, ma abbiamo tante persone che hanno portato curriculum, che vorrebbero provare comunque fare chi barista, chi cameriere, chi anche aiuto cucina, pizzaioli invece molto 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 difficile trovarli.